Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support, io sono Doc e nel video di oggi tratteremo di un argomento che nelle ultime settimane sta facendo molto parlare di sé, ossia quello legato agli NFT. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social, link in descrizione e ad iscrivervi al canale, non dimenticando di attivare la campanellina delle notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Come forse avrete già intuito, quest'oggi parleremo di arte, questo fantastico ed altrettanto controverso e discusso mondo che non smette mai di far parlare di sé, come anche in questo caso. Fatta eccezione per le arti concettuali, quindi diciamo figlie del loro tempo, che cosa rende opere come Il Bacio di Klimt, La Venere di Milo, Il Guernica di Picasso o ancora Il Persatore di Rodin assolutamente inestimabili? Semplicemente la loro unicità. Mi spiego meglio, nel mondo esistono n copie di queste ed altre millemila magnifiche opere d'arte stampate su carta, riportate su tela o scolpite nei più svariati materiali, ma per quanto queste possano essere minuziosamente riportate rimarranno sempre e solo delle copie e gli originali indissolubilmente legati ai loro creatori. Ebbene, se io vi dicessi che questo stesso concetto può essere esteso anche al mondo virtuale? Mi credereste? Tutti quei messaggi, note vocali, video, foto, gif o meme che ogni giorno inviamo puntualmente su WhatsApp o anche gli stessi post che possiamo leggere a milioni sulle baccheche di social network come Facebook o Twitter hanno un proprietario? E soprattutto come si definisce all'atto pratico il concetto stesso di proprietà di essi e analogamente anche l'unicità? Forse avrete sentito la notizia, perché ha fatto abbastanza rumore, che recentemente la gif del Neon Cat, che raffigora appunto un gattino con il corpo di una pop tartala ciliesa che vola o fluttua, dipende dai punti di vista, nello spazio lasciandosi dietro una scia a forma di arcobaleno, è stata venduta all'asta per una cifra di 600.000 dollari, pagati ovviamente in Ether, la criptovaluta che alimenta la blockchain di Ethereum. Nota a pie pagina, la blockchain è una tecnologia che permette la conservazione e la trasmissione di informazioni e transazioni, praticamente come una specie di enorme registro digitale, e per quanto la sua esistenza sia conosciuta soprattutto per il legame con le criptovalute come Bitcoin o la stessa Ethereum, in realtà se ne fa largo uso anche in altri campi. Stupiti dalla cifra di vendita che ha raggiunto questo gattino volante animato, vero? Presumibilmente sì, ma non è nulla se paragonato alla cifra realmente da capogiro che ha raggiunto la vendita di una delle opere dell'artista credo statunitense di nome Beeple, raffigurante un collage di circa 5.000 immagini digitali, la quale è stata battuta l'anno scorso mi pare all'asta per una cifra di 60 milioni di dollari. E in entrambi i casi comunque si tratta della medesima questione di cui parlavamo all'inizio, ossia l'unicità, perché esattamente come quelle fisiche anche le opere d'arte digitali, come gif, meme, immagini, suoni varie o questo stesso video che state vedendo in questo istante possiede la propria. Detto ciò, tutto questo vi sembrerà comprensibilmente assurdo, ma è la base che ha permesso ad un fenomeno che fino a poco tempo fa potevamo definire di nicchia di esplodere, letteralmente diventare il più conosciuto e cliccato della rete, ossia quello degli NFT, acronimo che sta ad indicare il Non Fungible Token. Ma prima di parlarvi degli NFT o Nifties, ci tengo a fare un passo indietro per parlarvi di un altro fenomeno, inerente comunque all'argomento odierno, che mi ha lasciato veramente basito la prima volta che l'ho sentito, ossia quello dei Crypto Kitties. Nato all'incirca nel 2017, questo gioco online basato anch'esso sulla blockchain di Ethereum permette a tutti i suoi utenti di acquistare, allevare e successivamente rivendere il proprio gattino virtuale, ognuno dei quali presenta delle caratteristiche peculiari che lo rendono unico e solo nel suo genere e che ne influenzano anche direttamente il prezzo di vendita. E quale che sia stata la motivazione dietro al lancio di questo gioco fosse anche uno scherzo poco in porta, nell'arco di meno di un anno esso è arrivato a coprire circa il 25% del traffico mondiale della blockchain di Ethereum e quindi movimentando capitali per un valore di circa 250 milioni di dollari. Non male per dei gattini. Ma tornando a noi, gli NFT, acronimo come dicevo di Non Fungible Token, sono dei gettoni virtuali registrati all'interno di una blockchain che, una volta acquistati, fungono da certificato di autenticità per il file multimediale al quale sono associati. E prima che vi esploda la calotta cranica nel tentativo di tradurre questa frase in ostrogoto, lasciate che vi spieghi in maniera semplice e veloce che cos'è al lato pratico un NFT. In italiano il termine fungibile indica un prodotto, un bene o comunque un articolo privo di unicità e che quindi può essere liberamente scambiato o sostituito tra persone, ad esempio il denaro. Di conseguenza, con l'aggiunta di questo non all'inizio della frase non, Fungible Token, la si fa diventare una certificazione di rarità, unicità e soprattutto proprietà. A lato pratico può essere registrato come NFT qualsiasi tipo di file multimediale, quindi foto, video e musica a piacimento. Tuttavia è bene tenere in considerazione che, una volta registrato appunto, il file in questione resta comunque libero di circolare per la rete, come poi accade per qualsiasi altra opera d'arte. Facendo l'esempio, ma perché l'abbiamo citato a inizio video, del paccio di Klimt, esso è contenuto, ovviamente in forma originale, all'interno della Galleria Belvedere di Vienna. Tuttavia è sufficiente andare a fare una normalissima ricerca su Google Immagine per trovarne N copie assolutamente identiche che però sono copie. Ma per farvi un esempio pratico, quindi in linea con l'argomento che stiamo trattando oggi, prendete questo video che state vedendo ora. Essendo YouTube una piattaforma che permette il download più o meno libero dei suoi contenuti, voi potreste scaricare mille volte a questo video e ricondividerlo, pubblicarlo o rivenderlo a scopo di lucro e sarebbero tutte copie esattamente identiche a quella in mio possesso, quindi l'originale, in quanto ogni file multimediale è semplicemente un mero agglomerato di codici. Diversamente, se io decidessi invece di certificare la copia in mio possesso tramite un NFT, diventerei l'unico possessore dell'unica copia originale e tutte quelle in circolazione, a rispetto di quante siano e dove si trovino, sarebbero solo delle copie. E prima che possiate domandarvelo, essendo queste delle opere d'arte digitali, quindi esistenti soltanto sotto forma di codice, anche la certificazione stessa fornita dall'NFT esiste nel medesimo stato. Di conseguenza niente carte da firmare, bollare, in quadrupla o triplice copia, ma semplicemente un insieme di dati inequivocabili che definisce in maniera netta e precisa un dato file multimediale. A questo punto molti di voi potranno giustamente domandarsi quale sia il reale senso di autenticare l'unicità di un'opera d'arte digitale. Ciò nonostante trovo comunque sensato, dal momento che il nostro è un mondo quasi totalmente informatizzato, attribuire anche alle opere d'arte originali esistenti in formato digitale un determinato valore. Per dire, e qui lo specifico è un mio parere personale, sicuramente dettato da un'ignoranza di fondo in materia, trovo decisamente più incredibile che opere veramente assurde come la fontana di Duchamp o la n***a d'artista di Manzoni o ancora la forchetta gigante di Favre abbiano quotazioni milionarie. Ma tralasciando questo mio commento estemporaneo, come si fa all'atto pratico ad acquistare uno di questi NFT? Banalmente mediante uno dei tanti marketplace online, quindi negozi virtuali, sui generi di eBay, per farvi capire, attraverso i quali è possibile appunto compravendere questo genere di articoli. Nella fattispecie quello più famoso, o comunque più conosciuto, se volete anche soltanto andarlo a vedere, si chiama OpenSea. E se con questo mio video suscitate in qualcuno di voi il prurito di acquistare uno di questi NFT, sappiate che per farlo è necessario essere in possesso di un wallet, quindi di un portafoglio di criptovalute, ovviamente, in quanto, come ho detto anche prima, la loro compra veneta avviene solo ed esclusivamente sulla blockchain di Ethereum. Tuttavia è doveroso specificare che per il momento si tratta di null'altro che una bolla speculativa, perché da quando la moda, perché di moda dobbiamo parlare degli NFT, è spopolata a livello mondiale, diventando l'argomento in assoluto più cliccato della rete, si può trovare qualsiasi tipo di opera d'arte digitale su questi marketplace, alcune dei quali, come nel caso del Neon Cat, possono raggiungere cifre veramente incredibili, ma che sono dettate da null'altro che un trend, una moda, quindi, e che nel caso ipotetico, anzi neanche troppo ipotetico, in cui questa bolla possa esplodere da un giorno all'altro, come tra l'altro è già capitato con altre cose in passato, le persone che hanno investito in uno o più nifties nel tempo si ritrovino con in mano null'altro che un pugno di mosche. Tuttavia ovviamente questa non è una certezza matematica, ma in un mondo volatile e mutevole come quello delle criptovalute bisogna tassativamente tenere in considerazione anche questa possibilità, soprattutto quando si vanno a effettuare delle transazioni importanti. Ma a dispetto di qualsivoglia speculazione, che può esserci o meno sull'argomento NFT, è innegabile che essi rappresentano un'eccellente opportunità per tutti gli artisti che, per i motivi più disparati, non sono ancora conosciuti a livello mondiale o che vogliono anche semplicemente aumentare i propri introiti. Titoli di Coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero, con interesse e ovviamente, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a spollicciarlo e a lasciare un commento qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale!